carissimi amici e amiche bentornati per una nuova puntata del circo di catechesi vizi e virtù siamo giunti alla puntata numero 22 stiamo immersi solo col pensiero evidentemente con la trattazione nel brutto vizio capitale della lussuria dobbiamo andare avanti ancora un pochino la volta scorsa abbiamo un po drammaticamente purtroppo presentato lo scenario attuale dove questo vizio ahimè dilaga impazza e domina preso tantissimi cuori tantissime coscienze i giovani i miei fanciulli purtroppo sono violentemente prepotentemente attaccati da questo maledetto vizio c'era un vescovo di mia conoscenza che lamentava un po di anni fa che ormai non esiste più la cosiddetta età dell'innocenza perché io nella mia esperienza pastorale posso garantire che anche in tenerissima età a volte senza senza ovviamente che si rendano pienamente conto ma possono succedere come dire situazioni di peccato molto molto gravi tra l'altro capite che anche a livello pastorale si aprono degli scenari molto molto difficili per un sacerdote nel senso che evidentemente un bambino va preservato da tante cose no non è prudente parlare di tante cose neanche per verificare se se dovesse esserci qualche problema il guaio è se poi tu ti accorgi da quello che fanno da quello che si scambiano dei video che vedono dai discorsi che che potrebbero essere coinvolti in qualcosa di di quel genere insomma sicuro che si tratta di di cose veramente molto 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 tristi molto molto brutte che si constatano appunto con un estrema punta di tristezza bene oggi andiamo un pochino avanti e dobbiamo fare ancora alcune considerazioni diciamo così generale prima di passare poi all'analisi delle sei specie della lussuria che è quello diciamo che ci interessa un pochino no le specie di di questo vizio ora san tommaso d'aquino infatti distingue in questo vizio sei specie sette figlie ora le sette figlie abbiamo già visto la categoria dei figli con gli altri vizi capitali sono comportamenti abitudini derivanti dalla schiavitù a questo vizio si considerano bene adesso le l'elenco le l'elenchiamo le sette i sette le sette figlie e le sei specie allora pensate le figlie di questo vizio quindi cosa succede di fatto cosa raccoglie i figli sono un po come i frutti no Gesù dice dai frutti si riconosce l'albero un albero cattivo non può produrre frutti buoni né un albero buono produrre frutti cattivi no le figlie della lussuria sono pensate la cecità di mente non capisce più niente la precipitazione questo è san tommaso da qui non è basta aprire la seconda dove parla del vizio capitale della lussura andare a verificare l'inconsiderazione l'amore ovviamente disordinato di sé l'odio di dio l'attaccamento alla vita presente e la disperazione della vita futura cioè poi ne riparleremo no però si cominci già perché soltanto dal dall'elenco non ci serve diciamo una grande sagaccio una grandissima intelligenza per rendersi conto no ho le sei specie della lussuria cioè le forme particolari con cui questo vizio si manifesta o se preferiamo i rami di questo tronco attossicato guarda un po sono sei le specie della lussuria no sei sesto comandamento 666 è il numero del diavolo no guarda un po sono sei probabilmente ai tempi di santo ommaso da qui non si sicuramente conosceva il libro della vocalisse no però sicuramente nel medioevo non era nato il satanismo così come lo conosciamo in età contemporanea perché quello come ricorderete da alcune mie vecchie catechesi storicamente è nato con proprio in senso tecnico in senso stretto con alester crawley quindi siamo fine ottocento primi del novecento sei specie comunque che sono la fornicazione la deflorazione lo stupro l'adulterio l'incesto e il quadriforme vizio contro natura quadriforme vedremo poi sono delle cose molto molto interessanti nella dottrina di santo ommaso noi quando sentiamo parlare di vizio contro natura pensiamo subito e solo all'omosessualità ma attenzione è una delle specie della sesta specie non l'unica allora cominciamo a considerare prima le figlie d'accordo e poi le spese vediamo prima i frutti così uno risale dal frutto all'albero allora chi è il lussurioso perché chi è il lussurioso è una persona che ha dimenticato di avere un'anima spirituale io ho detto durante l'omelia della scorsa domenica dove si parlava del figlio al prodigo che quella famosa frase centrale del del vangelo adesso la vado proprio a riprendere proprio il cuore del vangelo è il ritornò in sé ritornò in sé il figlio al prodigo a un certo punto ritorna in sé e questo ritorno in sé però è molto interessante andare a considerare le varie etimologie prendo un attimo il vangelo perché è molto è molto è molto interessante insomma andare a vedere questa cosa no allora in luca 15 17 c'è scritto proprio nella traduzione della cei allora ritornò in sé in greco è venire a se stesso elson es euton ora è più interessante il latino è reversus in sé quindi è ritornare proprio reversus è proprio il movimento di ritorno no ma le cose più belle sono le espressioni del aramaico e del ebraico perché l'aramaico ha età lott nafshe che significa elettoralmente si venne come l'elson del greco ma ha la sua anima nafshe venne la sua anima e l'ebraico è proprio il top perché l'ebraico ha il ritornare cioè la radice di shuv quindi esbon nefesh che ese che che she asa esbon nefesh cioè proprio ritornare alla propria anima capiamo la conversione del figlio al prodigo che aveva dilapidato il patrimonio in prostitute dice il vangelo quindi era un lussurioso consiste nel ritornare alla propria anima cioè si è ricordato che non è semplicemente un corpo da spendere tra piaceri bassi e bagordi ma che c'ha un'anima guardate che l'anima ce l'abbiamo tutti quanti ma la stragrande maggioranza degli esseri umani vive come se non ce l'avesse l'anima cioè l'anima siamo noi però noi dobbiamo comprendere una cosa no mi raccomando figlioli e cari seguitemi un attimino l'uomo è fatto di anima e di corpo la guida di noi stessi cioè io adesso mi sto esprimendo attraverso cosa viene fatto attraverso le facoltà spirituali la parte superiore dell'anima razionale in stato di coscienza cioè attraverso l'intelligenza la volontà e la memoria queste facoltà sono condizionate da una serie di movimenti che tutti avvertiamo qui ho fatto a suo tempo un corso di catechesi sull'antropologia come dire classica dell'uomo che sono le nostre passioni i nostri sentimenti le nostre emozioni che in vario modo condizionano e trascinano sia il nostro pensiero che la nostra volontà a destra e a sinistra questa è una condizione che a seguito del peccato originale noi non abbiamo la capacità di dominare perfettamente tutte quante queste cose la si acquisisce con lo sforzo con l'ascesi e con l'aiuto della grazia di dio d'accordo? ora chi è che decide a quale parte del corpo dell'uomo scusate dare priorità siamo noi è la nostra volontà cioè se io faccio un digiuno che cosa sto facendo? sto o scelgo di far soffrire il mio corpo ok? perché se uno fa il digiuno il corpo sta male ma non è che scelgo di far soffrire il mio corpo perché sono malato di mente o perché sono da manicomi o perché sono masochista queste sono perversioni scelgo di far soffrire il mio corpo perché? perché offro al Signore un sacrificio ma perché attraverso questo gesto ascetico tra le altre cose io so che far morire un pochino il corpo significa dilatare come dire far respirare un po' l'anima infatti il digiuno c'ha senso senso profondamente compiuto quando si realizza nelle opere buone e sante quindi opere buone non significa altanto fare la forma del prossimo cioè io magari non mangio e durante quel tempo che non c'ho per non mangiare faccio il rosario oppure il giorno di digiuno va da messa quindi rinuncio al pane materiale ma mi nutro delle eucaristie è una scelta quindi dove cioè dove il varicentro su cui la nostra vita si sposta quindi noi siamo carnali come dice San Paolo o spirituali e questo dipende da noi e questo dipende da noi è vero che ci sono le passioni gli impulsi le tendenze ma quelli si si dominano non si pensi nessuno pensi che per quanto violente siano le pulsioni legate alla libido quindi alla sessualità non siano governabili non è vero specialmente per noi che siamo battezzati che abbiamo la grazia di Dio non è vero sul mio canale YouTube ci dovrebbe essere ma si trova anche online io l'ho presa e l'ho ricaricata c'è un'intervista datata ad un attore bellissimo messicano che è Eduardo Verastegui veramente un bellissimo attore molto celebre in America Latina qui un po' meno qui in Italia anche se ha fatto dei film dove si vede e tra cui se non ricordo male dovrebbe lavorare anche credo che abbia lavorato anche in Cristiada se non ricordo male credo di sì vabbè comunque l'intervistatrice a un certo punto lui durante questa breve intervista confessa che vive in castità da quando che ha avuto una forte conversione e che da quando ha avuto quella forte conversione vive in perfetta castità questa la guardo con due occhi così prima perché era un bellissimo ragazzo un bellissimo ragazzo insomma a 30 anni a 35 anni che vive in perfetta castità ma quindi non era stupita soltanto del fatto che una persona che è un così bel ragazzo vive in castità ma a un certo punto cioè gli fa una domanda dove nella domanda è sottinteso ma come fai a vivere una cosa di questo genere cioè è impossibile cioè è lui che risponde dice ah momento calma chi l'ha detto che è impossibile il bisogno sessuale l'impulso sessuale non è come l'impulso che ci spinge a mangiare perché mangiare è indispensabile per vivere cioè posso pure un digiuno di 40 giorni se ho fegato e coraggio come Mosè come Gesù come San Francesco ma dopo 40 giorni devo mangiare per forza d'accordo cioè non è in discussione ma se uno sta 30 anni in perfetta continenza 40 50 o tutta la vita senza neanche conoscere questa cosa e ci sono stati i fior di santi che hanno vissuto questo non succede niente non succede niente non è che uno sta tutto il giorno come dire con la bava alla bocca o con la lingua dei fuori che non pensa altro perché è coartato in un bisogno che se non c'è l'amore no non è così questo è quello che ci vogliono fare credere i i super lussuriosi di oggi che non è possibile una cosa di questo genere no e guardate che anche quando si fanno certi discorsi io le dico queste cose con sofferenza anche a livello ecclesiale no pensate sottolanta la la polemica che c'è le posizioni folli i due argomenti uno che riguarda gli etero e uno che riguarda gli uomo dentro la chiesa diamo la comunione ai divorziati che vivono la sessualità esplicita benediciamo le coppie gay lasciamo che una persona che è omosessuale attivo faccia tranquillamente la comunione cioè quindi le benediciamo e quindi come dire sdoganiamo questa forma di esercizio della sessualità come se niente fosse la dobbiamo benedire attenzione a quale mentalità sta cedendo una certa minoritaria spero parte del pensiero di qualche uomo di chiesa quello pensa dentro la testa sua vabbè poveracci questi cioè non gli posso chiedere di controllarsi perché non si possono controllare cioè una coppia di divorziati risposati che vivono insieme e quelli devono avere per forza una vita sessuale ma chi l'ha detto questo qui ma dove sta scritto sta scritto da nessuna parte d'accordo così come una coppia di omosessuali che si vogliono bene voi sapete che c'è una differenza poi lo vedremo tra la omosessualità e la omogenitalità dentro il mondo dell'omosessualità si aprono delle prospettive in cui è difficile entrarci anche a livello psicologico d'accordo specialmente quando sono coinvolti i sentimenti è un mondo particolare quello che la chiesa chiede non è che una persona si snaturi d'accordo perché può darsi che non ce la faccia come dire a reinventarsi non è detto ma quello che la chiesa chiede è la castità quello che ha sempre chiesto ma che la chiesa chiederà sempre perché se qualcuno pensa altro è completamente fuori e io non lo dico tranquillamente c'è nessuna paura di dirlo è completamente fuori della chiesa di Cristo fuori ok fuori senza nessuna possibilità di rientrarci a prescindere da queste notazioni dottrinali cosa qual è il pensiero non se ne può fare a meno questo mito bisogna metterselo sotto i piedi dimostrarlo con la vita e testimoniarlo con la parola senza nessuna paura e senza nessun tipo di soggezione la vita umana non è questo se uno si mette in ascolto del Vangelo il Vangelo di Luca la disputa di Gesù con i Sadducei quando vanno in disputa i Sadducei con Gesù sulla risurrezione che gli pongono quell'argomento proprio carnale ma quella c'ha avuto sette mariti e alla risurrezione della carne di chi sarà la moglie quelli stanno a pensare quando risorge perché col corpo ricomincia a avere il corpo e quindi ricomincerà la vita sessuale e che facciamo nell'altro mondo se è quella chi chi sarà figlia c'ha avuto sette mariti cosa risponde Gesù i figli di questo mondo prendono moglie e prendono mariti i figli della risurrezione no quindi sta dicendo che i corpi dei risorti a questo non ci pensano proprio e attenzione che i corpi dei risorti ogni tanto scherzo nessuno si immagini il paradiso così come che ne so un monastero di clausura dove si sta sempre in ginocchio a pregare come accade qui nella fede senza manco avere la vita il paradiso non è così cioè in paradiso c'era l'ode c'era l'adorazione certamente che c'è la preghiera ma la preghiera è molto diversa da quella che viviamo qui perché vorrei vedere se noi vedessimo la Santissima Trinità o il nostro Signore se pregare a volte ci riuscirebbe un pochino penoso un pochino faticoso a volte lo è per questo che la preghiera è un'opera penitenziale è una cosa bellissima ma richiede anche una fatica uno sforzo perché perché noi non vediamo cioè non abbiamo sempre percezione di colui che stiamo pregando quindi dell'oggetto della nostra preghiera e quindi molte volte richiede una pena quindi un'operazione faticosa ma il paradiso non è così in paradiso dove c'è la sede di tutti i piaceri possibili concepibili e immaginabili perché questa è la beatitudine questo non c'è ma guarda un po' guarda un po' come mai come mai se se ne può fare così tanto a meno e siccome abbiamo avuto rivelazioni private su queste cose qui anche in questo ciclo di catechesi facciamo un po' di pubblicità il libro di Tenera Amata al di là del tempo e dello spazio che è molto bello che parla delle glorie accidentali che hanno i beati attenzione che dice che in paradiso ci stanno cibi succulenti di cui parla del profeta Esaia vini raffinati ci stanno tutte queste cose e in maniera molto più sublime di quanto pensiamo ma i piaceri venerei non ci stanno dice questa donna che i liquori del cielo sono i più buoni liquori della terra non sono paragonabili con la differenza che te li puoi bere quante te ne pare che non ti ubriachi non ti danno un testa qua insomma chi ha lo stomaco debole se si vuole fare un goccettino di amaro di fatto dai trappisti quello super buono un dito due ma dopo te devi fermare perché oltre che te fa male uno non ci sta più con la testa il paradiso non è così ma questo non c'è quindi il lussurioso è una persona che ha dimenticato di avere un'anima l'ha completamente messa al bando vive come se non ce l'avesse ha dimenticato di essere stato creato per fini assai più nobili del godimento dei più bassi e animaleschi tra i piaceri sensibili anzi in certe manifestazioni come vedremo gli uomini sono andati a degradarsi al di sotto degli animali perché fanno cose che gli stessi animali bruti non fanno gli esseri umani vanno sotto cioè non sono non sono accontentati di andare a livello non ancora più in basso quindi il lussurioso si immerge dentro queste cose con tutto se stesso peggio di come i maiali quando mangiano schiaffano la testa dentro la rolla quindi ci mettono proprio il muso dentro e vanno in apnea con tutti quanti i versi noti che fanno e solo ogni tanto tirano su il naso per respirare e poi si rimettono e e divorano e stanno proprio avvoltolati proprio l'immagine è vero che il porco il maiale perdonatemi il termine è proprio come dire l'animale che simboleggia il vizio della della lussuria no? come ben sappiamo quando si dice una persona che si dice sporcaccione no? o sporcacciona non facciamo tanto che ci sta dentro questo c'è dentro sporca sporca anche essere sporchi lo stesso bene noi dobbiamo concepire queste queste cose dobbiamo riconcepirle queste cose perché oggi vengono presentate cioè disinvoltamente cioè ci sono attori pornografici attrici pornografiche che sono 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 trattati come come superstar adesso per carità il rispetto della persona umana d'accordo è sempre sacra chiunque sia il portatore chiunque sia la persona umana ma le scelte di una persona umana non sempre sono da come dire da da far passare come normalissimo un lavoro come tutti gli altri insomma 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 altro è astenersi dal giudicare la persona e la coscienza che questo lo fa soltanto il signore ma altro è dal come dire mostrarsi non solo indifferenti ma addirittura come se niente fosse nei confronti di un comportamento oggettivo questo noi non lo possiamo mica fare questo qui vedete il messaggio che si dà no? questa è una cosa normale normale cioè nel senso normale vuol dire a norma cioè a norma vuol dire conforme alla legge quindi almeno la legge degli uomini e adesso lo step che si vuole fare ulteriormente è rendere queste cose conformi non solo alla legge degli uomini che ormai nella società sono assolutamente normalizzate queste cose qui ma vorrebbero anche come dire che fossero da qualcuno come se qualcuno ne avesse l'autorità normalizzate in base alla legge di Dio il problema è che chi ha queste velleità dimentica che pure più elevati tra i ministri sacri io sono soltanto un prete certo essere prete è la cosa più grande che esiste in tutto quanto l'universo ma io sono soltanto un prete nel senso che io non sono nostro signore non ho nessuna autorità sulle cose di nostro signore se non quella che lui mi ha dato per amministrarle essendovi sottomesso questo vale per tutti vale per un povero prete ma vale anche per un eccellente vescovo per un eminente cardinale e per sua santità il pontefice il sommo pontefice di turno siamo tutti sull'astruttura stessa barca nessuno di noi ha potuto cioè nessuno può dire bene nella legge di Dio fino ad oggi è stato questo da domani siccome vogliamo essere un pochino più aperti le cose sono cambiate ci mettiamo quest'altro chi lo dicesse che Dio ce ne scampi e liberi farebbe un atto di prevaricazione assolutamente inaudito e che non avrebbe evidentemente nessunissimo valore né al cospetto di Dio né al cospetto degli uomini se non essere foriero di un gravissimo giudizio terrificante sicuro da parte dell'altissimo di chi si azzardasse a fare una cosa del genere nessuno di noi è più grande del padre eterno nessuno la chiesa esiste per custodire il deposito della fede trasmetterlo e insegnarlo e stop e interpretarlo anche autenticamente quando è necessario attraverso il magistero autentico per viva Dio per bacco senza dubbio rimaniate di più non per alterarlo o per rimodularlo secondo mode umane o secondo cambiamenti epocali che richiederebbero un adeguamento qui non c'è nessun adeguamento non è Dio che si deve adeguare all'uomo la legge di Dio che si deve adeguare alla legge dell'uomo è se vuole l'uomo che si deve adeguare a Dio e la legge dell'uomo alla legge di Dio se vuole se non peggio per lui ma Dio non si muove di un millimetro ora proseguo molto prima che le scienze umane moderne dimostrassero che nella sessualità attenzione per quanto si esplichi in gesti molto materiali è comunque impegnato e coinvolto tutto l'uomo questo penso che lo sappiamo tutti quanti no? non è semplicemente un gesto materiale agli esponenti della spiritualità cristiana e per la verità anche elementi più illuminati tra i filosofi pagani si pensi per esempio a un Socrate o a un Seneca questo principio era chiarissimo lo dico perché oggi gira questa io l'ho sentita in più di qualche circostanza ma questi sono peccati molto molto materiali molto molto carnali d'accordo? gli uomini poi sono deboli ma ti pare che il nostro Signore bada a queste cose ammesso che siano peccati concediamolo pure ma mica queste cose si va all'inferno le cose serie sono altre i peccati grossi sono altri questa mentalità per chi legge il libro dell'Apocalisse la parte chiara del libro dell'Apocalisse che sono i primi tre capitoli con le lettere alle sette chiese a un certo punto Gesù ad alcune chiese dice che condanna fermamente la dottrina dei Nicolaiti i Nicolaiti erano questo si sa dall'esegesi un gruppo gnostico uno dei primi gruppi gnostici e tra i gruppi gnostici dei primissimi tempi tra cui questo e se ne parla nel libro dell'Apocalisse c'erano quelli che come dire propugnavano la liceità degli atti impuri perché perché l'ognostico fa questo discorso qual è la parte più importante dell'uomo è lo spirito è l'anima il corpo che cos'è qui c'è una certa influenza di una certa parte del platonismo greco il corpo è il principio del male è la parte più bassa è materia quindi non ha tutta questa grande importanza ciò che conta veramente è l'anima ma se le cose stanno così attenzione adesso qui al passaggio diabolico se le cose stanno così se io faccio un atto impuro ma quella è una cosa che fa il mio corpo ma il mio corpo non c'entra niente con me che cosa vuoi che mi fa cioè il mio spirito che poi si immerge nella contemplazione che guarda le idee come diceva Pratone ma che gliene importa se 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 questo se questo ci sta sapete che adesso non so come sono proseguiti gli studi ai tempi in cui studiavo io c'era il zero sospetto insomma che Platone tra l'altro come 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 molti esponenti del mondo greco avesse una certa simpatia per i giovanotti di sesso maschile ecco quella che si chiama mi sembra lefebofilia se non se non se non sbaglio termine no il che conferma anche nel platonismo perché questo tipo di visione che sembra pure accattivante no sembra pure anche averci una sua ma attenzione non è così perché dentro la sessualità non c'è semplicemente un gesto corporeo tanto è vero che anche da un punto di vista maschile penso che sappiate mi scoccio un po' può affrontare anche a passant questo argomento ma lo faccio insomma a fini di completezza ci sono delle cause di impotenza che dipendono esclusivamente da fattori psicologici non c'entra niente l'organismo d'accordo o il funzionamento corretto delle ghiandole e degli organi preproposti alla vita sessuale è un problema psicologico quindi quindi non è un fatto meramente materiale noi non c'è la nostra anima non può essere scissa dal nostro corpo perché come sempre San Tommaso d'Aquino ha ampiamente dimostrato sulla scia di Aristotele l'anima è la forma sostanziale del corpo quindi in ciò che io faccio con il corpo è sempre coinvolta l'anima sempre sempre chi si dà al vizio della lussuria si abbrutisce quindi nel senso che trascina verso il basso obnubilandole anche le sue facoltà più nobili e facendo loro perdere in maniera direttamente proporzionale al tasso di impunità perché poi c'è un tasso bisogna vedere quanto uno sta coinvolto con quali atti fino a che punto perché qui c'è una possibilità come dire di arrivare a livelli esponenziali oppure di avere cadute sporadiche in ogni caso si perde cioè l'infognarsi in questo vizio fa perdere alle più nobili delle facoltà dell'uomo cioè quelle spirituali la capacità di compiere gli atti per cui sono state create ecco perché abbiamo per esempio la cecità di mente adesso lo vedremo subito no la memoria per esempio se uno consuma pornografia in continuazione se uno stanca l'intelletto nei pensieri impuri o negli atti impuri poi queste cose se le ricorderà la mente nel senso la memoria si intende sarà piena di oggetti e di scene impure la memoria è qualcosa di formidabile perché la memoria è uno dei serbatoi dei rifornimenti all'intelletto a quello che noi pensiamo e quindi l'intelletto a che pensa penserà alle cose basse e pensando a questa monnezza che cosa succede diventa incapace di meditare per esempio di contemplare di percepire il senso profondo delle cose la volontà terza facoltà spirituale che cosa fa viene come legata dalla violenza delle passioni per cui appena c'è qualche cosa di dilettevole ai sensi si precipita ordina a tutto il corpo di buttarsi a capofitto in questo a tutte le altre facoltà e a tutto quanto la persona e facendo questo però la volontà diviene da padrona e signora a schiava perché 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 a seconda gli istinti bassi e i piaceri che dovrebbe in realtà saper controllare e dominare quindi la padrona diventa serva la signora diventa schiava ed ecco dunque apparire la prima figlia la cecità di mente cioè la perdita della capacità di conoscere soprattutto di conoscere il fine ultimo dell'uomo cioè la visione beatifica il paradiso che è il motivo per cui Dio ha creato la nostra anima spirituale noi siamo stati creati per conoscere amare e servire Dio in questa vita e goderlo nell'altro non per godere tutti quanti i piaceri della lussuria in questa vita che non esisteranno in paradiso e che terminano nei tormenti eterni dell'inferno non siamo stati creati per questo figlio prodigo ha capito io non sono stato creato per questo non è questa la vita il lussurioso non sa che Dio ci ha fatti per sé e che il nostro cuore come diceva Sant'Agostino non trova pace fino a quando non riposa in lui attraverso la grazia in questa vita e la gloria nell'altro Sant'Agostino appena citato era stato un discreto lussurioso penso che quasi tutti sapranno che Sant'Agostino aveva un figlio prima della conversione a Deodato e quindi Sant'Agostino anche quando Sant'Agostino scrisse delle considerazioni un solo minuto di esperienza neanche troppo mistica di vicinanza di Dio di intensa quindi unione con lui spirituale le persone che pregano hanno esperienza di queste cose perché Dio si comunica in maniera molto molto semplice e immediata senza che con questo diventi grandi mistici ci sono esperienze ordinarie a chi ha una vita di orazione o ordinaria tra l'altro neanche di un grande livello un minuto di questo non è paragonabile a nessuno di tutti quanti gli applessi che ho vissuto nella mia vita insomma lui aveva un bel un bel dire su questo evidentemente non era neanche battezzato quindi era un pagano e quindi per carità nulla nulla question ora il lussurioso quindi si autocausa ne è lui la causa una notevolissima diminuzione della capacità di esercitare in modo retto le facoltà intellettive che sono assolutamente spirituali e che sono completamente inibite dall'avvoltolarsi nei piaceri carnali bassi e quindi questo che cosa fa? se una persona perde questa lucidità mentale diventa precipitosa seconda figlia della superbia la precipitazione che significa precipitosa? cioè non pondera le scelte che fa agisce a capocchia si dice non delibera i mezzi adatti al fine e quindi compie una serie di azioni sbislacche strampalate sproporzionate insensate stravaganti sciocche stupide e ci leghiamo con la terza figlia l'inconsiderazione che significa l'inconsiderazione guardate che San Tommaso era veramente un grande l'inconsiderazione significa incapacità di giudicare le azioni da compiere o meno il considerare è una parte della virtù cardinale della prudenza ne parleremo a suo tempo quindi l'inconsiderazione è la capacità appunto di giudicare ponderando bene le azioni da compiere oppure no ora il lussurioso non ha una scala per esempio di valori perché lui conta solo una cosa avendo fatto dell'ultima e della più bassa realtà della vita il proprio Dio o il motivo della sua esistenza guardate che chi è schiavo della lussuria il suo Dio è il sesso il sesso è uno dei tre idoli potenti di questo mondo le tre S sesso soldi e successo pensate a a molti membri a molti come dire esponenti del mondo dello spettacolo della musica dello sport sesso soldi e successo e quindi abbiamo visto l'inconsiderazione ora quarta figlia l'amore di sé l'amore disordinato di sé chi si dà a questo vizio è l'emblema dell'amore disordinato di sé cioè colui che sceglie di vivere per godere il più possibile e senza freni tutti i piaceri della carne identificando grossolanamente scioccamente come faceva già il filosofo che non ha neanche degno secondo me del nome di filosofo però chiamiamolo così Epicuro che identificava la felicità con il piacere cosa che oltre ad essere sbagliata è anche profondamente stupida perché non ci vuole tanto a capire che non è vero quinta figlia l'odio di Dio che cosa succede perché l'odio di Dio perché siccome Dio proibisce e condanna come indegni dell'uomo e della sua nevata natura spirituale i godimenti sfrenati dei piaceri venerei Dio viene odiato c'è l'odio c'è l'odio di Dio e l'odio degli uomini di Dio è l'odio di tutti quanti coloro che parlano di queste cose e che denunciano questi tipi di di peccato no? Odio è proprio odio allo stato puro odio e vediamo in alcune come dire manifestazioni non è un mistero non soltanto l'odio ma la messa in ridicolo della religione o meglio la profanazione lo sberleffo l'irrisione anche di simboli e patrimoni sacri penso che tutti quanti capiamo di che cosa sto parlando sono delle cose assolutamente inaccettabili ma attenzione se ci si mette dentro quell'orizzonte è perfettamente normale tanto lo stato lo consente tanto a livello di chiesa nessuno parla ma tanto se anche parlasse non avrebbe nessun seguito comunque dovrebbe parlare perché il fatto che non si abbia nessun seguito non autorizza a rimanere muti dinanzi ad alcune cose si pensi per esempio alle cose successe recentemente al nord Italia durante una celebre manifestazione canora e all'intervento doveroso scritto e pubblico fatto dal vescovo di quella diocesi non fa niente se si passa per retrogradi o per non all'altezza cioè è dovere dei pastori parlare dovere su queste cose è dovere dovere la denuncia evidentemente sempre dei comportamenti le coscienze le giudica sempre il nostro signore anche se chiaramente chi ha posto in essere un comportamento è una persona quindi se faccia bene un esame di coscienza e si ricordi insomma che tutti quanti dovremmo passare per il giudizio di dio tu puoi anche non crederci io dico sempre dico nostro signore vuole che aderiamo alla fede e alle verità di fede in maniera libera personale spontanea ma attenzione non è che se tu non ci credi che dopo la morte c'è il giudizio ah siccome non ci hai creduto per te niente giudizio no no per te il giudizio resta lo stesso e sarà un giudizio un pochino più impegnativo perché ti troverai dinanzi a una sgradevole sorpresa se pensi di poterla fare franca guardate che franca non la fa nessuno si può sfuggire al giudizio degli uomini si può sfuggire al giudizio della storia come dire si possono fare tante cose se si può farla franca si possono ingannare gli uomini si può passare per essere il salvatore dell'umanità quando tu sei invece un criminale agli occhi di Dio questo può succedere tutto in questo mondo ma attenzione che il re dell'azione mi arriva e arriva alla morte a tu per tu tra il soggetto e Dio ma al giudizio universale questo viene reso pubblico è perché è giusto che sia così perché è giusto che chi è stato perseguitato e messo da parte come un deficiente in questa vita arrivi un giorno in cui dice tu questo l'hai messo da parte come un deficiente questo era un mio servo questo era un mio amico guarda quanto stai in alto e tu che ti pensavi di essere il padre eterno in terra guarda dove stai adesso questo accadrà questo qui figlioli miei cari liberissimi di 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 non crederci insomma no come diceva Santa Margherita non Santa Margherita Santa Bernardette la Madonna mi ha detto di dirvelo non di farvelo credere anche un povero prete oggi più che mai adempe la missione apostolica di predicare il Vangelo e la verità e spero di poterlo sempre fare con fedeltà evidentemente chi ascolta libero di credere o non credere ma si sappia però che c'è questa libertà ma l'oggettività delle cose rimane cioè uno può non crederci che Gesù Cristo è il figlio di Dio ma quando morirà vedrà che quello è il figlio di Dio punto e basta cioè non c'è niente da fare cioè capite cioè la fede non è una cosa una creazione soggettiva la fede è quella grande virtù che ci consente di raggiungere la verità la verità stessa e le verità soprannaturali anche in questo mondo agendo di conseguenza una grandissima cosa ma chi non ce l'ha o non ce la vuole avere o volendola l'ha rinnegata fa male a se stesso ma non intacca minimamente la realtà delle cose ok pensiamo un altro problema dell'ordinazione sacerdotale presunta delle donne su cui Giovanni Paolo II ha chiuso la questione se si legge bene la tua la proprio la proprio chiusa su questo intendo dare una sentenza definitiva e la questione è chiusa mille volte ho spiegato se qualche folle volesse riaprire la questione dice no ordiniamo le donne la chiesa cattolica come ha ben spiegato San Giovanni Paolo II non ha il potere di farlo questo potere questo noi non siamo i padri eterni perché Dio ha voluto che prete ci diventa un battezzato di sesso maschile chiaro? se ci metti una donna fosse anche la Madonna e la Madonna è contenta che dico questo prete non ci diventa la Madonna infatti la Madonna non è stata ordinata prete da suo figlio pensa un po' se avesse voluto le donne prete chi è che poteva fare il prete meglio della Madonna qualcuno alzi la mano ma non lo è stata non c'era al Cenacolo la Madonna probabilmente Gesù gli ha portato la comunione perché non stava lontano ma non c'era al Cenacolo la Madonna quindi noi non abbiamo nessun potere sull'oggettività delle cose nessuno c'era torniamo alle figlie della superbia oltre che il lussurioso figlio della lussuria scusate ogni tanto c'ho qualche transistoro che parte oltre all'oggettivo di Dio è attaccato alla vita presente oh l'attaccamento alla vita presente l'attaccamento alla vita presente tema di stretta attualità l'attaccamento alla vita presente perché vorrebbe continuare a godere senza limiti in eterno di tutti quanti i piaceri terreni no oggi c'è una vera e propria somatolatria ci sono stati momenti negli anni passati dove c'erano i tempi di crisi ah però i gestori delle palestre gli estetisti i chirurghi estetici adesso lasciamo perdere la situazione che si è verificata in quest'ultimo frangente ma mi ricordo negli anni passati c'era la crisi c'era la crisi c'era la crisi ma gestori di palestre chirurghi estetisti affari sempre a gonfie vele donne e anche uomini più di quanti se ne pensi oggi commettono gravissimi peccati di somatolatria si chiama somatolatria del corpo perché? perché per essere più piacenti solo per questo per essere più seduttivi e quindi più per mettersi in condizione di poter maggiormente godere di questi piaceri perché per godere questi piaceri deve essere attraente se non ti si fira nessuno con più persone possibili per i più anni possibili fanno di tutto di più si sottopongono a di tutto di più fanno fatiche enormi spendono un sacco di soldi e anche qui pensiamo a quanto possiamo e dovremmo dare di controtestimonianza tanto maggiore quanto più queste cose sono diffuse e l'ultima fine è la disperazione della vita futura che significa disperare della vita futura non è che questi qua gli ne importa niente non è che dice mi sto disperando perché forse in paradiso non ci vado no non è questo il senso di questa espressione disperare nel senso che non gli è proprio che portare di meno cioè la disperazione nel senso della totale non considerazione il disinteresse totale verso i beni eterni ma questo oggi amici è il disinteresse totale io vi dico da parroco lo vedo sempre di più in un piccolo centro come voi in cui sto si vede macroscopicamente persone anche buone ma che non ci pensano proprio un disinteresse ora capiamo che alla luce di queste cose la deriva del mondo che abbiamo parlato l'olta scorsa e di riflesso anche di qualche zona della chiesa comprensibilissima no non è che servono sondaggi analisi convegni pastorali eccetera eccetera qui stiamo dinanzi a un fenomeno di pansessualizzazione si chiama così paspasapan in greco significa tutto cioè tutto è sesso e tutto questo è purtroppo andato crescendo anche con la connivenza di non pochi atteggiamenti minimalisti si sente anche da parte in qualche in qualche ambiente ecclesiale eh ma mica eh ci sono quelli che per i quali peccati sono soltanto dalla cintola in giù non sono soltanto questi ma per carità ma certo che è vero ma l'usare questa espressione che di per sé certamente le bestemmie non sono peccati che si fanno con la parte in giù a messa la domenica non è che non si fa con la cintola in giù il disonare il padre e la madre non è che si fa dalla cintola in giù la droga non è che si fa dalla cintola in giù l'idolatria dei soldi non si fa dalla cintola in giù ma siamo d'accordo ma nell'attuale contesto storico uscirse con una cosa di questo genere già questa materia è stata completamente potremmo dire in termini civili si dice depenalizzata non si può dire depeccatizzata ma insomma facciamo uno strafalcionaccio neologistico no? queste cose non si considerano peccati se si chiede addirittura la benedizione della chiesa su certe cose è perché c'è proprio un rifiuto se tu te ne esci con questa frase in questo contesto non aiutano perché in questo contesto senza paura pur a costo di dicere ah ma siamo nel 2022 non siamo mica prima della rivoluzione qui il mondo è cambiato che ti metti ancora a fare questi discorsi sei anacronistico ma noi non siamo anacronistici cioè Gesù Cristo è lo stesso ieri e oggi è sempre quindi in un contesto di come dire di cristianità dove forse si è raggiunto un certo livello come era stato raggiunto di non perfetto mai però di decenza almeno è certo che te ne puoi uscire con una frase del genere perché non è che se tu non hai grossi problemi sul sesto comandamento vai automaticamente in paradiso e sei già santo e la voglia ancora ti accorto? ma il problema è che oggi ci hanno tutti i problemi su questo quasi tutti evidentemente sono sempre le eccezioni ma quasi nessuno ne vuole sentire parlare né tantomeno vuole ammettere che questo sia un problema così come i buonismi e i perdonismi fuori luogo di qualche maldestro confessore certamente sarà in buona fede penserà di fare il bene ma non si può minimizzare e lasciar correre su questa materia bene la prossima volta vedremo le sei specie quindi si entra proprio nel vivo dell'argomento la mia benedizione a tutti quanti a chi ha seguito la diretta una santa notte a chi seguirà la differita la mia benedizione ci vediamo se Dio vuole per la prossima